Pace a tutti. Questa mattina vi voglio raccontare la mia esperienza di fede e quello è stato il mio percorso che mi ha portato a camminare poi con il Signore. Io sono nato in un paese del sud Italia quasi 60 anni fa e sono cresciuto con una nonna cattolica che mi ha insegnato la dottrina cattolica e a pregare. Io ero un bambino che andava in chiesa come tutti quanti quelli della mia età e ci andava anche volentieri devo dire. Però all'età adolescenziale sono incominciati i primi problemi, la ribellione, all'età di 16 anni è incominciato a fare uso di droghe leggere, e all'età di 17 è incominciato con le droghe più pesanti, l'eroina, ho provato la cocaina, ho provato gli allucinogeni. Questo è andato avanti per un po' di anni nella mia vita. In questi anni ho perso amici, amici che sono morti di overdose, amici che si sono fulminati le cellule neurali con gli allucinogeni e non sono più in sé, non sono più loro. Tante cose, tante esperienze. Ho provato anche l'esperienza dolorosa del carcere, che è un'esperienza che non augura a nessuno perché segna molto. Poi sono emigrato al nord Italia e lì mi sono ritrovato in una casa molto vecchia, molto antica, in una montagna, dormendo solo di notte e lì ho avuto delle esperienze con degli spiriti perché questa casa erano gli spiriti. Io non credevo agli spiriti, non credevo a nulla di tutto questo, non credevo che esistessero i fantasmi, non credevo assolutamente, pensavo che tutto ciò erano delle favole. Invece mi sono scontrato con una realtà spirituale reale. Questa realtà spirituale mi ha spinto a una ricerca di cos'era questo. E proprio in quel periodo ho conosciuto una donna che era sensitiva, almeno diceva di essere sensitiva. Con questa donna mi sono innamorato, mi sono messo insieme, ho avuto una relazione di tre anni e mezzo e ho frequentato con lei un centro gnostico, quindi ho fatto esoterismo, ho fatto magia, invocazione dei spiriti di morti, telescrittura e tutto ciò che riguarda questo tipo di mondo qua, per riuscire a capire. Ma in realtà la mia era più una ricerca interiore, capire il senso della vita. Poi lasciando tutto ciò alle spalle, mi sono dedicato a una vita diciamo normale. Mi sono sposato con la mia attuale moglie e facevamo la vita che fanno tutti quanti, una vita normale, una vita di festa tra amici, senza eccessi. Però c'era sempre quel qualcosa che mancava, qualcosa che dentro di me gridava un aiuto, era un vuoto esistenziale. Infatti io di notte, mentre dormivo, piangevo. Mia mia moglie mi diceva che piangevo proprio in una maniera disperata, un pianto di dolore, un lamento di dolore molto forte. Dieci anni fa sono dovuto emigrare in Germania, perché il lavoro si era bloccato e quindi sono dovuto venire in Germania. E qui il vuoto esistenziale, nonostante le condizioni economiche erano buone, non ho avuto un grande problema economico, e anche con le droghe avevo smesso, avevo smesso un po' con tutto. Vivevo una vita tra parentesi sana, ma questo vuoto esistenziale si era ingigantito. se non che, otto anni fa, per caso sono stato invitato in una chiesa evangelica. E lì ho sentito una presenza, ho sentito qualcosa di diverso. Dopo due settimane mi sono reso conto che nella vita ne avevo fatte troppe. Avevo i miei peccati, erano così abbondanti che mi schiacciavano. E allora, in quel momento ho detto a Gesù, ho detto, io voglio lasciare tutto questo, riconosco di essere un peccatore, riconosco che nella mia vita non ho fatto nulla che ti possa piacere, nulla che tu possa accettare. E così ho detto, Gesù ho bisogno di te, io voglio camminare con te. Da quel momento ho sentito una grande pace dentro di me. Una pace, quella pace che il mondo non dà, quella pace che la ricerca di cose materiali non danno. E così ho accettato il Signore. E anche mia moglie si è convertita. La nostra relazione è cambiata completamente, perché avendo il Signore in casa nostra, in casa nostra si respira la pace del Signore. E il Signore mi ha cambiato. Quel dolore che avevo di notte, quel pianto disperato, quel vuoto che avevo, è sparito. Nel momento in cui ho accettato il Signore, è sparito. perché è proprio quel vuoto, è quella parte dell'anima che ricerca il suo creatore. E questo è successo a me, questo può succedere a chiunque accetta il Signore, perché quando uno viene con cuore sincero davanti a Gesù e dice, io sono un peccatore, lo riconosco, ho bisogno di te nella mia vita. Gesù non ha mai lasciato una preghiera inascoltata. E da quel momento ogni cosa è cambiata nella mia vita, perché la mia prospettiva di vita è cambiata. La mia prospettiva di vita oggi è dalla parte dell'eternità. Molti corrono nella vita pensando che la vita una è questa e bisogna viverla. Esatto, è così. La vita è una e bisogna viverla. Ma ci disperiamo quando vediamo che questa vita ci scorre di mano come l'acqua, e va via in un attimo e non sappiamo cosa c'è dopo, se crediamo che c'è un dopo. Invece quando ci rendiamo conto e accettiamo le premesse del Signore, che c'è una vita eterna, una vita con il Signore, allora questa prospettiva, questa vita, assumo tutta un'altra prospettiva. Logicamente accettare Gesù non significa che tutti i problemi finiscono, non significa che si ha una vita esuberante, senza problemi. I problemi ci sono sempre, le tribolazioni ci sono, anzi, le prove a volte ce ne sono anche di più. Però, abbiamo Gesù dalla nostra parte. La nostra barca nella tempesta non è da sola, c'è Gesù con noi nella barca. E ci aiutaci da forza a superare tutte le difficoltà, ogni giorno di più. per cui, se hai sfruttato questo video, vi consiglio, veramente, se oggi sentite, o avete un problema di droga, oppure avete un problema di... che vi consultate maghi, consultate stregoni, tutte queste cose qua, io vi do un consiglio, lasciate stare tutto questo, chiedete aiuto a Gesù, mettetevi in ginocchia, e ditegli, io sono un peccatore, io ho bisogno di te. e Gesù non aspetta altro che vi aspetta a braccia aperte. E vedrete che la vostra vita cambierà completamente, sarà completamente trasformata. Giorno per giorno vedrete, vedrete la meraviglia di Dio, vedrete la mano di Dio agire nella vostra vita, vedrete il vostro carattere cambiare, vedrete tante cose sparire, ci saranno le battaglie, ma ricordatevi che il Dio potente è con noi ogni giorno della nostra vita e non ci lascerà fino al giorno in cui saremmo sempre con Lui. Il Signore vi benedica.